Un numero elevato di carrellati che deturpano la bellezza paesaggistica del litorale putiolano. Molta la confusione nell'attribuzione dei contenitori alle attività commerciali. È giunto il momento di mettere ordine. Questo è l'imperativo alla base del nuovo provvedimento adottato dall'amministrazione comunale di Pozzuoli e partito stamattina dal lungomare di Via Napoli. Per espressa volontà del sindaco Vincenzo Figlioli e dell'assessore all'ambiente Franco Cammino, stamattina gli operai della De Vizia, accompagnati dai vigili urbani, si sono dati da fare per mettere in pratica quanto decretato dal nuovo ordinamento adottato. Un cambiamento radicale per il sistema di raccolta differenziata, soprattutto riguardo le attività commerciali presenti sul litorale di Via Napoli, così come spiega l'assessore Cammino. Per la fine del mese possiamo affermare che abbiamo completato il porta a porta per tutta la città di Pozzuoli. Questo è stato un grande risultato neanche in due anni, siamo arrivati a una percentuale di oltre il 74%, per cui possiamo affermare di essere soddisfatti. Però riteniamo sempre che si può fare di più, molto di più, perché come vedete stamattina stiamo qui con la De Vizia, stiamo verificando ad personam tutte le attività commerciali, perché come i cittadini ben sanno, su Via Napoli si vedono troppi contenitori in giro, anzi si trovano dall'altra parte dei marciapiedi dove stanno le attività commerciali. Stiamo facendo un porta a porta da personam per capire ad ogni attività quello che effettivamente serve, perché tutto quello che è superfluo lo togliamo. Se noi abbiamo un piccolo bar che fa solo caffè, è inutile tenere dei contenitori fuori, gli diamo una biomettoniera piccola, come quella che abbiamo nelle famiglie, che la può tenere benissimo dentro, non è ingombrante, perché dobbiamo eliminare tutto questo scempio che c'è su tutto il litorale di Via Napoli. Una razionalizzazione quindi della raccolta differenziata che vedrà l'eliminazione dei carrellati superflui a vantaggio del decoro urbano e del miglioramento del servizio. Tutti i carrellati restanti, compresi quelli per l'organico, saranno censiti con un sistema di numerazione, tale che ad ognuno di essi corrisponderà un'attività commerciale, in modo da poter subito risalire agli autori di eventuali violazioni delle norme previste dall'ordinamento. Ma questo non è soltanto Via Napoli. Noi siamo partiti adesso da Via Napoli perché è il grosso delle attività commerciali che abbiamo sul territorio, ma proseguirà per tutta la città di Pozzuoli, perché noi riteniamo che l'umido, come ben sapete, lo raccogliamo di mattina, ma lo raccogliamo anche di pomeriggio per tutte le attività commerciali. Per cui riteniamo che si possa veramente dare l'immagine di una città più pulita, nel senso di evitare tutti questi contenitori dispersi per la città. Non mancano purtroppo polemiche tra i commercianti destinatari di tale provvedimento, titubanti e perplessi, sulla reale efficacia del sistema adottato, sottolineandone alcuni punti deboli come la concreta possibilità che i bustoni consegnati in sostituzione dei classici bidoni possano garantire facile accesso agli animali raddaggi una volta posizionati in strada. O ancora, in caso di forte allagamento, questi possano creare notevoli disagi e danneggiare il decoro urbano che tanto si sta difendendo. Dubbi interrogativi più che illegittimi, ma si aspettano i fatti per poter trarre conclusioni, nella speranza che questi dubbi possano col tempo dissolversi e non essere confermati. Grazie a tutti.